Noi vogliamo ripartire, noi vogliamo affrontare la gara contro una squadra che ha pari punti, che è quadrata, che ha anche caratteristiche particolari perché si difendono molto bene, molto bene nella loro metà campo, che è molto brava nelle ripartenze, che ha la capacità di attraverso Togordo essere pericolosissima sulle palle inattive e sui tiri da fuori aria, quindi un avversario che non a caso è riuscito a vincere tre gare in trasferta, soprattutto è riuscito a vincere a Cremona, è riuscito a vincere a Pistola e è riuscito a vincere anche a Siena. Ha caratteristiche particolari, però ci vogliamo far trovare pronti nella consapevolezza che abbiamo anche la necessità di ritornare a esprimerci anche dal punto di vista della determinazione, della corsa e della voglia, non solo qualitativamente, sui livelli che solamente 15 giorni fa nella gara interna con il Renate eravamo riusciti a fare. Beh, è la prima volta dall'inizio della stagione dove nessuno sa chi partirà dal primo minuto, se no in genere o lo sanno tutti o tengo due o tre dubbi. a questo giro non l'ho detto a nessuno perché voglio fare le valutazioni per bene anche con lo staff medico fino alla fine, c'era qualche situazione da valutare anche dovuta alla partita di mercoledì, Muscat è atterrato da poco a Roma, è in viaggio verso Arezzo ma ieri sera ha fatto 90 minuti pieni, quindi è una situazione da dover valutare veramente a 360 gradi, ancora non ho deciso tutto il pomeriggio e la nottata, ma in genere prima di andare a letto in genere decido per poter prendere le decisioni e poter scegliere al meglio sapendo che comunque quelli che sono a disposizione c'è la necessità che si esprimano tutti al massimo delle loro potenzialità perché per vincere contro questo avversario, per vincere contro il Piacenza c'è la necessità che tutti diano il massimo del proprio contributo.